Buonasera e ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Due settimane fa abbiamo affrontato il tema della prevenzione dei tumori ai testicoli, soprattutto nei giovani, evidenziando il fatto che talune patologie che caratterizzano l'età giovanile possono nell'evoluzione dell'età causare una evoluzione in negativo della patologia che può dare origine a delle vere e proprie neoplasie. Per cui è importante, questo è il messaggio che è emerso dalla trasmissione di due settimane fa, è importante che ci sia una sorta di continuità e di filo conduttore fra gli urologi pediatrici che seguono i ragazzi per queste patologie di minore importanza e gli urologi che poi seguono questi soggetti ormai diventati adulti. Ne abbiamo parlato perché a settembre scorso a Casa Sollievo si è svolto un corso proprio per realizzare questo filo conduttore, corso organizzato dalla responsabile dell'unità di urologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza, il dottor Giuseppe Cretti che è tornato con noi in studio. Bentornato allora. Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo deciso di dedicare un'altra puntata perché la volta scorsa anche a causa delle interviste che abbiamo mandato in onda di alcuni fra i partecipanti a questo corso, le telefonate che sono arrivate proprio a fine trasmissione non hanno trovato spazio. Allora cercheremo in questa nuova trasmissione dedicata allo stesso argomento per coloro che vogliono telefonare al 0881 41 83 80 di dare la possibilità di dialogare con il dottor Cretti. Intanto una prima domanda, prima poi di riassumere quello che abbiamo detto la volta scorsa, la prima domanda è questa. È la prima volta che si organizza un corso a livello nazionale per cercare di creare questo filo conduttore terapeutico fra urologi pediatri e urologi per adulti? Direi proprio di sì, è un corso originale proprio per questo moderno e nuovo approccio al problema, cercare come ho detto la settimana scorsa quell'integrazione culturale tra i vari attori che a vari livelli intervengono per la diagnosi e la terapia di queste forme appunto a rischio oncogeno, patologie testicolari a rischio oncogeno. L'approccio moderno è quello di cercare quell'integrazione culturale tra operatori che per vari motivi non sono organizzati per poter interagire tra di loro, non hanno i modelli organizzativi e quindi significa cercare di trovare e di proporre quei percorsi diagnostico-terapeutici che faccia realmente collegare bene le varie figure professionali. In altri termini se il dottor Cretti che è un urologo pediatra segue un bambino in età pediatrica nel momento in cui ci dovesse essere una necessità di trasferire da adulto quel paziente con una patologia diagnosticata trattata in età pediatrica, è bene che il collega dell'età adulta, il collega urologo sappia esattamente che percorso quel paziente ha fatto, a quali rischi in età adulta potrebbe andare incontro un paziente operato in età precoce tipo una ritenzione testicolare insomma che abbiamo già identificato come il fattore di rischio più diffuso riconosciuto per l'insorgenza di una patologia neoplastica. Ecco ma come dovrebbe avvenire questo passaggio di consegne? Cioè l'urologo pediatra quando il soggetto ha compiuti 18 anni dovrebbe trasferire una sorta di cartella clinica tenuto conto che il modello di salute americano che il ministro Lorenzin vuole introdurre è ancora nel libro dei sogni, ci piacerebbe che così fosse, che ci fosse un patrimonio di dati immagazzinati nella cartella personale che più automaticamente passa all'urologo per adulti, ma adesso come può avvenire questo passaggio di... Adesso è veramente tutto da costruire, non esistono in nessuna realtà italiana appunto né tantomeno straniera, questo lo diciamo con certezza, sono soltanto delle realtà che si muovono alla ricerca di un modello, ma nemmeno la sanità americana che per tanti versi è stato il nostro punto di riferimento ha dei modelli assistenziali che garantiscano realmente questo transitional care, significa però costruire le basi appunto in un modello organizzativo tra operatori sanitari che permetta questo scambio, questo flusso di appunto di informazioni e tutto questo può avvenire solo se si organizzano nuovi servizi, cioè se ci sono realtà sanitarie in cui prendiamo la nostra casa sollievo dalla sofferenza dove grazie a Dio a padre Pio noi non abbiamo questi problemi perché abbiamo tutte le risorse professionali, io come urologo pediatra, sono chirurgo pediatra urologo, posso seguire dall'età appunto dai primi giorni di vita in poi un paziente che presenta queste patologie a rischio oncogeno, ma prendiamo altre realtà per esempio ospedali pediatrici, il bambino Gesù di Roma, il Gaslini eccetera, che istituzionalmente seguono questi pazienti fino a un tetto, sarai 16-18 anni, bene, proprio per loro si crea la necessità di interagire con interlocutori dell'età adulta e questo può avvenire soltanto se le autorità sanitarie, e questo sarebbe auspicabile a livello appunto ministeriale e nazionale, di creare un modello organizzativo da poi replicare nelle varie istituzioni ospedaliere, cercare realmente di preparare un percorso mediante il quale l'urologo dell'età adulta si interfaccia, va periodicamente ad osservare delle patologie in età pediatrica e viceversa sono flussi appunto bidirezionali. Non basta solo passare le informazioni, necessario che l'urologo pediatra conosca l'attività dell'urologo e l'urologo conosca quella dell'urologo pediatra. E l'urologo pediatra, caro direttore, ha la necessità di andare a verificare qual è la ricaduta, qual è l'impatto del suo operato dall'età pediatrica in età adulta, perché questo lo aiuta a crescere professionalmente, culturalmente, in quanto può verificare realmente che ricaduta, quale outcome ha avuto una patologia che lui ha trattato in quella maniera in età pediatrica, ma ci sono delle ricadute positive, negative, ci sono delle criticità di quel paziente che io ho trattato in età pediatrica per l'età adulta. Senza sconfinare molto, noi vorremmo rimanere appunto nel nostro ambito, noi parliamo adesso di patologia rischio oncogeno, la patologia rischio oncogeno, alcune patologie che ancora non hanno ricevuto una definizione ben precisa dal punto di vista eziopatogenetico, l'altra settimana accennavo a una patologia che è sempre misconosciuta ma che è abbastanza diffusa, la microlitiasi testicolare, una patologia che è spesso associata a tumore dell'età, che può insorgere in età pediatrica, abbiamo un 4% di incidenza in età pediatrica, come faccio a seguire questo paziente che potrebbe sviluppare un tumore a un aumentato rischio di incidenza di tumore dall'età pediatrica fino a 16-17 anni e poi questo quadro rimarrà per tutta la vita, quindi lì c'è bisogno di creare l'integrazione culturale. Alcuni miei colleghi urologici per adulti che non vedono appunto questa patologia chiaramente non possono realmente appunto dare il loro contributo, quindi se si crea l'integrazione culturale e lo scambio bidirezionale delle informazioni e della cultura reale appunto scientifica, allora noi faremo un gran servizio al paziente perché quel paziente sicuramente sarà ben trattato da tutti, dall'età pediatrica all'età adulta. Ma riassumiamo quello che è avvenuto a settembre e quindi anche quello di cui abbiamo parlato due settimane fa nel servizio che ha preparato per noi Leonardo Fania. L'incidenza dei tumori testicolari in età giovanile sta aumentando del 6% all'anno, ma grazie a un adeguato percorso terapeutico nel 95% dei casi si riesce a salvare il paziente dalla morte. Sulla base di questi dati si è svolto un confronto tra gli esperti del settore di tutta Italia che si sono ritrovati a San Giovanni Rotondo il 13 e il 14 settembre scorsi per un corso nazionale di urologia pediatrica sul tema patologia testicolare a rischio oncogeno, aspetti di prevenzione e di follow-up in età pediatrica e adolescenziale, transitional care per l'età adulta. L'iniziativa, organizzata dal dottor Giuseppe Creti, responsabile dell'unità operativa di urologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza, si è svolta nella sala conferenze dell'ospedale fondato da Padre Pio ed è stata patrocinata dalla Società Italiana di Urologia Pediatrica. Dai report annuali dell'Associazione Italiana dei Registri Tumori emerge il dato sensibile di un preoccupante e costante aumento dell'incidenza dei tumori testicolari in età giovanile. Per questo l'incontro che si è tenuto a San Giovanni Rotondo ha avuto come obiettivo principale quello di proporre un nuovo approccio culturale, un moderno e avanzato percorso clinico assistenziale ad ampio spettro di patologie testicolari ritenute a rischio oncogeno, al fine di conferire il giusto rilievo agli aspetti di prevenzione, di diagnosi precoce, di corretto e adeguato follow-up. Abbiamo già una prima telefonata al nostro numero di riferimento, lo 0882 41 83 80. Pronto? Buonasera, buonasera. Lei è il suo ospite illustre. Ponga la domanda. Io devo dire solo questo, che non ho più l'età, sono adulto, va, 70 anni, purtroppo per me perché sono vecchio. Allora io mi sono operato 6 o 7 volte, ho fatto 3 volte la meatotomia, il dottore lo sa che significa, meatotomia. Mi sono levato l'estero e tante altre vicissitudini. Poi mi hanno scoperto l'ultima volta che mi sono operato l'epatite C. L'epatite C arrovinano le vie urinarie. Poi ho fatto un anno intero l'indexerone. L'indexerone non so che ha servito, perché io non sono un medico, ma potrebbe arrovinare le vie urinarie, l'epatite C. Bene. Non è proprio argomento, però diamo qualche informazione giustamente a questo giovane ascoltatore. Allora ascolti, il problema della stenosi del meato, bisognerebbe sapere se lei in precedenza ha avuto delle infezioni genitali che hanno come esito ostruito e ridotto il calibro del meato uretrale esterno. Ha fatto delle meatose meatotomie, cioè delle incisioni sul meato per cercare di dare un calibro adeguato. La cosa che vorremmo sapere da lei è se lei attualmente ha sì o no dei disturbi dello svuotamento vescicale, perché quello che dovrebbe fare è andare a verificare con un esame abbastanza semplice e non invasivo un uroflussometria, cioè urinare un recipiente collegato a un particolare computer che ci dice esattamente quali sono i suoi parametri funzionali minzionali. Quindi abbiamo risposto a questo telespettatore, ma tornando all'argomento abbiamo sentito dal servizio che i tumori testicolari in età giovanile aumentano. Si è capito il perché? Cioè che cosa sta succedendo nelle nuove generazioni? Un ospite importante del convegno è stato il professor Stefano Ferretti dell'Associazione Nazionale Registro Tumori che ha realmente rappresentato lo stato dell'arte in termini epidemiologici dei tumori testicolari. Fortunatamente negli ultimi anni lui ha detto c'è quasi un fermo, un assestamento, ma la tendenza è stata quella del graduale, progressivamente, se prendiamo come riferimento per esempio l'anno 1993-95 e l'anno 2003-2005 siamo passati dal 3,7 al 5,2% di incidenza. Quindi adesso ci assistiamo intorno a questa percentuale e sembra che non ci sia un trend in aumento. Perché aumentano è una bella domanda direttore, perché tutta la ricerca internazionale è veramente orientata ad individuare sempre dei fattori di rischio, fattori di rischio che potenzialmente sono tantissimi, bisogna validarli scientificamente senza creare allarmismo perché naturalmente se abbiamo parlato di ritenzione testicolare ci sono voluti veramente tantissimi anni, studi di metanalisi che hanno dimostrato realmente che c'è un'incidenza 4-8 volte maggiore nel testicolo ritenuto rispetto al testicolo normale, ma l'esposizione a dei fattori che interferiscono, dei fattori endocrini che interferiscono durante l'embriogenesi dell'apparato genitale maschile, la teoria dell'esposizione in utero, sembra che sia realmente l'ipotesi diciamo più accettata dal punto di vista eziopatogenetico, vale a dire ci sono degli agenti esterni probabilmente che interagiscono con un apparato genitale che si sta formando nella vita intrauterina producendo delle alterazioni, mutazioni genetiche possono già predisporre quell'individuo all'insorgenza di tumori del testicolo. Forse dalla regia ci segnalano che c'è una telefonata? Pronto? No, è falso allarme. A fronte di un aumento dell'incidenza di tumori testicolari in età giovanile c'è però, ecco la notizia confortante, di una guarigione sempre più raggiungibile. Questo perché si fa diagnosi precoce o perché ci sono delle forme terapeutiche più efficaci? Sono entrambe sicure, ed è questo il fronte sul quale bisogna combattere, sulla prevenzione, cioè sulla conoscenza precoce, sugli screening che attualmente è molto difficile attuare data l'attuale situazione economica finanziaria del welfare, ma principalmente l'inversione di tendenza e quindi il cambiamento della storia naturale di un tumore testicolare la cui guarigione, abbiamo detto nel servizio, arriviamo in alcuni casi fino al 95-96%, è data negli ultimi 30 anni, grazie appunto all'introduzione di nuove procedure diagnostiche terapeutiche, ma principalmente appunto l'associazione di una polichemioterapia, radioterapia e chirurgia messe assieme, hanno ribaltato completamente qual era l'incidenza della mortalità negli anni 70, circa il 90% dei pazienti decedeva. Abbiamo invertito completamente appunto questo trend, e attualmente il 95% dei pazienti ha una sopravvivenza e guarisce appunto dalla malattia testicolare neoplastica. Il tumore testicoli da metastasi? Sì, ecco la storia, ci sono alcuni casi fortunatamente non frequentissimi in cui abbiamo un esordio con una malattia metastatica, cioè già diffusa in seda retroperitonale mediastinica, con delle linfadenopatie abbastanza voluminose e c'è un piccolo focolaio magari a livello del testicolo. Questa è realmente poi la storia naturale di ogni neoplasia, la sua aggressività come si può esprimere su vari soggetti. Abbiamo parlato di quelle patologie che diventano fattori di rischio per l'insorgenza di tumori testicolari. Coloro che grazie a Dio non hanno avuto questo tipo di patologie e che quindi ritengono di poter stare tranquilli. Siccome la volta scorsa abbiamo parlato di uno screening che prima c'era per i maschi ed era rappresentato dalla visita di leva, oggi questo screening non c'è più. Abbiamo detto poc'anzi che il Ministero della Salute non riesce in questa fase a finanziare screening. Allora, chi non ha mai avuto problemi può stare tranquillo oppure c'è un'età entro la quale comunque qualche controllo bisogna farlo e lo devono fare tutti? Io direi che periodo in tema di ristrettezze economiche dobbiamo veramente cercare la virtù nelle piccole cose che ci possono aiutare. Per quanto riguarda la diagnostica del tumore testicole e non solo di altre patologie basterebbe i controlli seriati che un pediatra dovrebbe appunto fare che si fanno appunto in epoche già precoci, insomma dai primi anni di vita in età scolare fino a raggiungere quell'età puberale che rappresenta poi naturalmente quella limite una volta valicato dove va appunto finire questo soggetto. L'abbiamo già detto la volta scorsa. È importante che ci sia per l'educazione alla conoscenza del proprio corpo. Iniziando da un'educazione, da un training per la curata igiene quotidiana dei genitali esterni. Sto dicendo questa cosa perché è importantissimo. Se noi abituiamo un bambino dall'età di 6-7 anni a lavare bene i genitali sotto la guida all'andoramento dei propri genitori, quel bambino è già predisposto a fare l'autopalpazione del testicolo. Abbiamo una telefonata in linea, poi continueremo questo discorso. Pronto? 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 Sì, da dove chiama e può fare la domanda? Sì, si, chiamo da Torino. Niente professore, io ho una semplice domanda. Per chi ha avuto un problema psicolare? Com'è possibile che dopo 6-7 anni si ricette anche nell'altro? Cosa è dovuto? Se c'è una concausa? Anche se tutto è andato bene? E poi se purtroppo l'intervento è stato fatto a tutti e due, chiaramente è una domanda assoluta. Non c'è presto di poter più, diciamo, procreare. Sì, questo è un caso particolarmente sfortunato quando abbiamo una storia di neoplasia testicolare controlaterale. C'è un'aumentata incidenza in questi soggetti. Chi ha un tumore testicolare da un lato ha un'aumentata incidenza, un'aumentato rischio nel testicolo controlaterale. Cosa che è successo in questo caso nel nostro telespettatore. È chiaro che... Quindi c'è un collegamento fra i due testicoli che permette, diciamo, il passaggio? Più che un collegamento, ritorniamo a quella teoria che stavo esponendo prima della esposizione precoce in utero appunto a una noxapatogena. Cioè se... Una causa? Una causa. Se quel testicolo è stato esposto a quella, diciamo, causa che ha fatto sviluppare il tumore, è possibile che a distanza di anni anche l'altra gonade ne possa essere affetta. In questo caso devo dire che... non so se il telespettatore ha effettuato questo intervento molto tempo fa perché l'orientamento attuale è quello di preservare, di fare appunto l'asportazione della neoplasia, ma di preservare il parenchima testicolare. È una terapia sempre più conservativa. Evidentemente se si è proceduto all'asportazione del testicolo probabilmente non c'erano le possibilità di conservarlo. Quindi quando il tumore non ha impegnato tutto il testicolo si può asportare solo e conservare la testicola. Sì, naturalmente quel soggetto deve essere naturalmente eseguito nel tempo con esami diagnostici periodici in maniera da intervenire precocemente se ci fosse una riaccensione del problema testicolare. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Da dove chiama? Pronto? Buongiorno, chiamo da San Giorgio Ionico, provincia di Taranto. Sì, ponga la sua domanda. Allora, io volevo fare una domanda al dottor Cretin per quanto riguarda mio figlio, ora a 14enne, è stato operato a San Gianni Rotondo proprio dal dottor Cretin per un testicolo che non era sceso. È andato tutto bene, il bambino è stato operato, ha fatto però un primo anno, due anni, ha fatto litografia, ha fatto alcune visite, è andato tutto bene, non è stato più controllato. La domanda che faccio è questo, il bambino ora, il ragazzo deve essere sottoposto a tutti. Io non è più il caso. Come dicevo prima, io solitamente non abbandono mai questi bambini che opero precocemente fino alla pubertà. Probabilmente c'era già un pediatra di riferimento, un medico di riferimento che doveva poi seguire nel tempo tutto questo. Però sarebbe utile, visto che siamo già in epoca puberale, andare a vedere che cosa sta succedendo secondo le stimolazioni naturali a livello dell'apparato genitale e quindi un controllo ambulatoriale sarebbe utile in questo periodo. Abbiamo dunque dato anche a questo telespettatore la risposta, ma stavamo poi proseguendo il discorso relativo alla prevenzione. L'altra volta accennavamo anche ad un progetto, il progetto Martina, l'abbiamo soltanto accennato. L'abbiamo solo accennato, vorrei spendere qualche parola di più perché realmente questo è un qualcosa che deve essere diffuso, lo è, grazie a un service di un'associazione di volontariato, appunto dei Lions. È partita nel 99-2000 nel nord-est a Padova al nome di Martina, per ricordare una giovane donna affetta da tumore mammario, che ha proprio pregato istituzioni medici di favorire le informazioni in età giovanile per prevenire realmente, appunto per far conoscere ai giovani quali sono i fattori di rischio del non vivere sano e bene, appunto e prevenire i tumori. Abbiamo un'ultima telefonata, veramente pochi secondi che restano per la fine. Pronto? Da dove chiama? Da Sorrento? Ponga la sua domanda. Io sono un sacerdote, Nicola De Maria. Avevo una persona con me quando avevo più o meno 50 anni, la signora 80, e aveva questo problema ai testicoli. Era giovane così, di una quindicina d'anni. Poi non so, ha sposato, ha avuto due bimbe, non so se ha avuto qualche altro problema, incedito e cose. Quanto hanno queste cose? Poi l'evoluzione è quella, ci dovrà essere senz'altro qualche altro problema incedito. E poi un'altra cosa, dico, per le persone sposate? C'è problema maggiore oppure minore? Bene, una bella domanda che mi consente di fare una precisazione. Le cose sono andate sicuramente bene, appunto, per questo paziente, tant'avvero che ha avuto due figli. Dovrà comunque, appunto, proseguire con quei controlli non invasivi, l'autopalpazione e un esame fisico, appunto, da parte di un medico a distanza di... ma non dovrebbe avere altri problemi. Però nel dubbio è bene sempre controllarsi. Abbiamo esaurito davvero il tempo a nostra disposizione, ringraziamo il dottor Criti per averci aiutato a comprendere la necessità della prevenzione per salvarsi da questa patologia che, grazie a Dio, ha ridotto la sua mortalità invertendo i dati dal 90% di mortalità al 95-96% di guarigioni. Per cui è importante la diagnosi precoce e importante la prevenzione. Grazie a Dottor Criti, grazie a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi.